gentili telespettatori buona giornata e anche giannini se la prende con la schline dice incompetente ma come il giornale di sinistra schierato faziosamente a sinistra con tutta la sua forza se la prende con ellish line dice la domanda è riuscirà ellish line a costruire un pd di centrosinistra o è troppo di sinistra per farlo e perderà un pezzetto del partito e la domanda che fa li 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 gruber a massimo giannini direttore della stampa durante il suo talk show sulla sette che si chiama otto e mezzo proprio nell'ultima puntata e dice ci mancherebbe altro che non ci sia un apparente accordo con stefano bonaccini se oggi cominciava da litigare a rompere subito sarebbe stato un segnale devastante non me l'aspettavo bisogna dargli tempo io ritengo che la schline abbia abbia due caratteristiche che la rendono nuova e interessante sotto il profilo politico elettorale è donna e giovane caspita davvero quindi il punto di forza della schline che è donna e che è giovane a caspiterina e sono 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 delle cose molto importanti e politicamente incredibile no quindi non quello che dici e quello che fai ma essere donna e giovane hai già fatto tutto tutto quello che era più importante dice questo se pensiamo aggiunge della vittoria di giorgia meloni in poi qualche cosa ci dice sul paese e anche sulla sinistra italiana sempre la più restia far sfondare il tetto di cristallo detto questo che cosa ha bisogno la schline e adesso arriva giannini che affonda la schline quindi nella prima parte dice è importante che donna e giovane quindi non delle qualità politiche ma che sia donna e giovane per lui è importante profilo politico elettorale e poi dice la sinistra non voleva lasciare a meloni solo a lei quella cosa di sfondare il tetto di cristallo beh che cosa ha bisogno la schline si fa la domanda da solo giannini e le manca la competenza anzi direi abbastanza gliene manca sta dicendo che la schline è incompetente pertanto quali sono le lodi e le critiche di giannini le lodi sono e donna ed è giovane ma è incompetente a ma sapete quante donne giovani in italia che non sanno di politica ci sono che potesse che potrebbero prendere il posto di ellen schline milioni quindi che da questa descrizione che fa giannini che cosa avrebbe in più la schline rispetto alla vostra vicina di casa niente perché dice la suo punto di forza è che è donna e giovane però il punto debole è che è incompetente abbastanza direi lei è ferrata nelle sue materie sui diritti civili ambiente ma su economia riforme politiche competenze istituzionali è tutta da costruire quindi dice politicamente non c'è non ha nulla nel senso di questo ne abbiamo parlato spesso la la schline rappresenta proprio esattamente quello che era letta quello che era zingaretti in sanno individuare il nemico loro sono cattivi nemici nostalgici però poi sulle materie come economia riforme eccetera eccetera e sulla sulle istituzioni non hanno nessun tipo di competenza cioè anche se metti la schline a dire dimmi qualcosa sull'economia lei ti fa un titolo ti prende una frase che trova da qualche parte dice adesso sul lavoro uguaglianza ma questo lo può dire chiunque uguaglianza come uguaglianza ma come uguaglianza te l'ho già detto no quante volte te lo devo dire per il lavoro noi punteremo all'uguaglianza sì ma come attui questa uguaglianza qual è il tuo piano operativo a quante domande ecco questa è la sinistra oggi vanno in piazza e gli riesce benissimo la schline saranno lì a cantare bella ciao queste cose qua a sventolare le bandiere rosse però poi se li fermi ci senti ferma un attimo smetti un attimo di cantare che si fa dell'economia a te l'ho già detto uguaglianza e per la crisi internazionale pace ho capito pace ma come ci arrivi pace pace lo sanno tutto tutti peace and love 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 e poi dopo love love comincia bella ciao bella ciao ecco questa è la schline descritta da giannini punti di forza e donna ed è giovane punti di debolezza tutto il resto di politica non sa niente non sa niente di economia di riforme ah beh è proprio una bella descrizione ecco la descrizione di una persona qualunque che mettono a capo del pd che ha il punto di forza di essere donna come la meloni e giovane come la meloni e quindi siamo diventati come la destra anche noi abbiamo una donna a capo del partito ecco siamo uguali anzi siamo meglio perché siamo meglio dice perché meglio è perché la è più giovane come diceva concetta del gregorio è più giovane la schline insomma saranno risentiti dall'altra parte come e vabbè questo è il livello delle discussioni politiche in televisione e poi giannini dice schline deve essere umile dotarsi di un apparato che le consenta di accrescere il suo livello di competenze e deve essere intelligente perché deve fare un'operazione inclusiva non deve chiudere il pd nello spazio ridotto della sinistra sinistra serve molto tempo però se riconquista i voti persi a sinistra fa già una grande operazione sì giannini apprenderà i voti dei centri sociali ma perderà quelli dei dei di quelli di centro che dico so stufo di cantare bella ciao e sventolare le bandiere rosse insomma parliamo di qualcosa di più serio quindi caro giannini vuoi vedere solo i voti che prende a sinistra ma non quelli che perde al centro e poi dice devono ripartire dal lavoro disuguaglianze povertà tutte cose che il pd ha dimenticato se le riprende fa già un'operazione importante ci saranno quattro anni purtroppo per la sinistra di tempo per ricostruire un pd un pd competitivo ha voglia a riprendere un po di voto moderato ha voglia come fai a prendere il voto moderato appunto se sei di sinistra sinistra grazie a tutti e arrivederci a presto